Ho iniziato con te l'avventura a luglio dello scorso anno, ero molto scettica, molto dubitativa di tutto e a distanza di quasi un anno sono qua che pur non sapendo gli argomenti vengo sempre alle tue meditazioni, spero di continuare anche perché ha dato un apporto positivo a tutto quello che è il mio mondo, se riuscite a sgrettolarlo, a mettermi in confusione però nello stesso tempo adesso ho la rinascita e questo grazie a te. Ciao!